A Colere oltre 400 cittadini firmano le petizioni per riavere una banca dopo la chiusura degli sportelli Biper. C'è la disponibilità di un altro istituto ad aprire, dicono i promotori della sottoscrizione. Dalla viabilità alla messa in sicurezza degli edifici comunali fino alla riqualificazione di piazze e parchi, diversi lavori pubblici in programma ad Albino per il 2023, il punto con l'assessore. Al vescovo bergamasco Carlo Mazza, la stella d'oro al merito sportivo del CONI, è stato cappellano degli azzurri per cinque olimpiadi estive e due invernali. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. In Germania la Polizia federale ha arrestato un 24enne ricercato dai carabinieri e reperibile da giugno sul territorio nazionale. Il giovane era destinatario di un mandato di arresto europeo in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a suo carico dal GIP del Tribunale di Bergamo dopo le indagini eseguite dai carabinieri della compagnia di Treviglio. L'attività investigativa svolta dai carabinieri è seguita alla tentata rapina a mano armata commessa dall'arrestato con un fucile calibro 12 già oggetto di furto nel primo pomeriggio del 20 maggio nei confronti della proprietaria di una tabaccheria di Fontanella e a seguire presso un negozio di alimentari ad Antenna 2 da cui poi è scaturita una violenta aggressione nei confronti del titolare ferito dal rapinatore con un taglierino. Le indagini hanno permesso di ricollegare ad un unico autore i due episodi. Le testimonianze raccolte e la visione dei filmati del sistema di videosorveglianza hanno poi permesso di identificare il responsabile. Alla cattura si è giunti attraverso una complessa e articolata attività investigativa che ha consentito di ricostruire la fuga del giovane e individuarne il luogo del nuovo domicilio in Germania. Il giovane dopo un breve periodo di detenzione presso la prigione di Saarbrücken in Germania nel pomeriggio di lunedì è stato consegnato alle autorità italiane e associato presso il carcere di Bergamo. Cambiamo argomento da quasi tre mesi colere senza una banca dopo la chiusura degli sportelli del gruppo Biper sia in centro sia al Dezzo di Scalve. Una situazione che sta mettendo in difficoltà il paese per questo è partita una raccolta firme. Sentiamo Vladimir Lazzarini. Sono oltre 400 le persone che a colere hanno sottoscritto le petizioni per chiedere che l'amministrazione comunale risolva i disagi che i cittadini stanno subendo a causa della chiusura nei mesi scorsi dello sportello bancario della Biper che era l'ultimo rimasto in paese. I promotori dell'iniziativa in un comunicato spiegano che al sindaco Gabriele Bettineschi sono stati consegnati i 433 fogli su cui i firmatari hanno segnalato la disponibilità della banca popolare di Sonrio ad aprire uno sportello in paese. Il sindaco aveva avuto contatti con il direttore di questa banca che ha uno sportello a Vilminore da cui aveva avuto la manifestazione di interesse per aprire uno sportello anche a colere. La stessa filiale di Vilminore si era potuta aprire facilmente dopo aver avuto l'affidamento del servizio di tesoreria della comunità montana ma a colere il consiglio comunale l'11 novembre ha deliberato invece di affidare la tesoreria comunale a poste italiane e non alla banca. Nelle scorse settimane attraverso Facebook si è costituito un comitato che ha proposto una raccolta di firme tra i coleresi e i frequentatori del paese. Nel testo consegnato al sindaco i firmatari chiedono al consiglio comunale di deliberare quanto prima di affidare alla banca popolare di Sonrio il servizio di tesoreria e si impegnano ad aprire o trasferire alla stessa banca i rapporti che hanno con Biper o altri istituti. Nel comunicato si sottolinea che l'attenzione con cui il sindaco ha seguito la presentazione della richiesta è un primo segnale positivo. Dalla viabilità alla messa in sicurezza degli edifici comunali fino alla riqualificazione di parchi e piazze. Sono tanti gli interventi e i lavori pubblici in programma nel 2023 ad Albino. Sentiamo. Un 2023 che già di base si prospetta ricco di impegni per il suo assessorato. Direi assolutamente sì perché abbiamo molti interventi che prenderanno il via nel 2023 e molti progetti da concretizzare. Vedete lì la modernamento delle piazze di Desenzano e di Comenduno che prenderanno il via intorno a febbraio. La realizzazione del parcheggio a Fiobbio con il prolungamento della ciclabilità della Valle del Luglio. La realizzazione di due corpi aggiuntivi al palazzetto dello sport di Desenzano che uno sarà la biglietteria e l'altro sarà la sede dell'associazione. La realizzazione di un porticato con sopra la mensa nella scuola elementare e la primaria Margherita Hac sempre a Desenzano. La rimozione dell'amianto dei tetti dei cimiteri è un progetto già che ci portiamo dall'anno scorso ma è bloccato per la sovrintendenza quindi speriamo quest'anno di poterlo avviare e concludere. E ci sarà un intervento importante che stiamo progettando e valutando che nella via 4 novembre quella che divide la scuola media, la secondaria di primo grado e la nuova scuola dell'infanzia e anche la Margherita Hac, quell'area sarà un attimo rivista e rivalutata in funzione di quello che sarà la viabilità dovendo avere un polo scolastico ci sarà un flusso di veicoli importante quindi ci sarà un progetto per rivedere tutta questa realtà. Oltre ci sarà il restauro delle facciate dell'ex scuola elementare di via Manzoni a Desenzano, l'aumento dell'inclusività del parco Alessandri che è il parco degli alpini dove installeremo alcuni giochi inclusivi, un tavolo e una panchina sempre inclusivi. Ovviamente si proseguirà con l'efficientamento energetico di nominazione pubblica, di edifici comunali, si valuteranno i revamping degli impianti fotovoltaici che ormai hanno una certa età quindi si farà questa valutazione e si farà la messa in sicurezza degli edifici comunali atti alla prossima partecipazione dei bandi di finanziamento per l'efficientamento energetico perché senza alcune clausole non riusciamo ad entrare in alcuni bandi per cui dovremmo sistemare alcune situazioni. Il tutto ovviamente sarà da valutare in base alle economie che edifici il bilancio comunale dovrà affrontare anche per l'aumento del caro energia. Un invito ultimo che vorrei fare è, per il discorso delle comunità energetiche rinnovabili, avremo un incontro pubblico il 25 gennaio, ore 20.30 a Novitorio e siete tutti invitati a partecipare per conoscere questa opportunità e questa iniziativa. A distanza da un anno, quindi dal suo arrivo nell'assessorato albinese, su cosa vi siete concentrati in particolare? Sicuramente l'opera che ci ha impegnato maggiormente è il cantiere delle scuole di Senzano come Nuno, dove il pressing nei confronti di un'impresa molto difficile è stato alto e dove siamo finalmente in trattura d'arrivo. Per il resto, rimanendo in zona, abbiamo la scuola dell'infanzia, la nuova scuola dell'infanzia, che dopo una partenza rallentata dalla problematica della composizione del terreno e delle sfondazioni, ora sta procedendo a ritmi serrati. Siamo in fase di ultimazione nel secondo lotto asfalti da 400.000 euro, che segue il primo lotto a 500.000 euro dell'anno precedente. Abbiamo chiuso un progetto di messa in sicurezza stradale per 200.000 euro realizzato a inizio anno. Stiamo ultimando la realizzazione di attraversamento pedonale via Pradella, nello svincolo per salire in via Monte Cura, via Cave. L'efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione ordinaria del municipio attraverso un intervento in utenzione ordinaria. L'efficientamento energetico del centro storico di Albino con ammodernamento dell'illuminazione per i piazzali caduti. Stiamo completando il parco della Valle Luglio che sarà il primo step per dare alla Valle un parco multifunzionale che si evolverà nel tempo in base a quelle che saranno le richieste e le necessità. Sta generando preoccupazione la carenza di alcuni medicinali, un problema che ha spinto il Ministro della Salute, Orazio Schillacci, ad istituire un tavolo di lavoro permanente e avviare verifiche. Abbiamo cercato di capire com'è la situazione nelle farmacie del nostro territorio. Si parla da alcune settimane di problemi legati alla carenza di farmaci. Com'è la situazione? La situazione non è proprio rosea e parliamo già della carenza di farmaci da prima di Natale, quindi io direi quasi tutto il mese di dicembre, anche perché i farmaci che mancano sono molecole importanti in questa stagione invernale. Facciamo dei semplici esempi. Praticamente, non so, ci sono dei cortisonici che vengono utilizzati in questo periodo per fare gli aerosol, la terapia dell'aerosol per quelli che sono patologie delle alte e basse vie respiratorie per persone asmatiche, ma anche il bambino che ha magari un po' di tosse o bronchite, non si trovano questi farmaci. Oppure degli antibiotici, antibiotici particolari che magari vengono utilizzati per la bronchite, polmonite, oppure un'influenza più accentuata che richiede una protezione antibiotica perché le vie aeree possono essere più colpite. Pazienti fragili che quindi vanno incontro a una carenza dove noi dobbiamo sopperire con qualcosa, quindi tutti i farmacisti si stanno dando da fare per cercare la cosa giusta, contattando il medico di base che ha prescritto, il pediatra, consultandosi se c'è un farmaco che si può cambiare la terapia perché continuano a mancare. Un esempio lampante che tutti conosciamo in questo periodo è l'ibuprofene, l'ibuprofene che è un farmaco, direi base perché viene utilizzato nell'influenza dei bambini, il classico sciroppo di ibuprofene, ma è un farmaco utilizzato anche per la terapia Covid in questo periodo, cioè non ne arriva, perlomeno io non credo di essere quella più sfortunata della Valseriana, però in 20 giorni ci hanno consegnato due sciroppi, quindi capite che è molto difficile far fronte alla richiesta. La cosa positiva è che tutte le farmacie sono dotate di laboratorio per le preparazioni galeniche magistrali, quindi potete rivolgervi nelle farmacie e farvi preparare lo sciroppo. In questa maniera si tampona la carenza del farmaco che c'è sul mercato. Si spera sia una carenza temporanea, però ripeto, durante le vacanze di Natale avevamo la gente di Milano che era qua in vacanza, che aveva la speranza, visto che noi siamo in montagna, siete piccoli, magari non l'avete venduto tutto, di trovare qualcosa che a Milano non trovavano più già da qualche mese, per esempio. Torniamo ad occuparci di coronavirus e vediamo com'è la situazione dei contagi in Bergamasca. C'è stato un balzo all'indietro dei contagi da coronavirus in provincia di Bergamo. Dopo il rialzo della settimana scorsa i dati diffusi dall'Agenzia di tutela della salute evidenziano una decrescita dei casi. Nella settimana dal 4 all'11 gennaio c'è stata una decrescita del tasso di incidenza rispetto alla settimana precedente. Si è scesi da 126 a 80 nuovi casi per 100.000 abitanti. Rispetto alla settimana precedente ci sono stati 517 nuovi casi in meno, un calo del 36%. Negli ultimi sette giorni la media giornaliera dei nuovi casi è scesa a 129 contro i 202 della settimana prima. L'indice di replicazione diagnostica RDT è sceso al di sotto del valore unitario e al 10 gennaio si è attestato a 0,71. Per quanto riguarda il territorio bergamasco tutti gli ambiti territoriali mostrano una riduzione del tasso di incidenza. I ricoveri e mortalità rimangono stabili su livelli bassi. La TS sottolinea che si mantiene costante nel tempo la quota di partecipazione alla campagna vaccinale. La quota di popolazione immunizzata con la quarta e la quinta dose di vaccino anti-Covid secondo la TS resta ancora troppo bassa. Solo il 12% ha fatto la quarta dose e lo 0,5% la quinta. Fortunatamente risultano più elevati i livelli di copertura della popolazione over 80 con percentuali superiori al 45%. Parte la prossima settimana il nuovo corso di primo soccorso della Croce Blu di Gromo. Un'occasione anche per diventare volontari in diversi campi dal trasporto sanitario alla protezione civile. Sentiamo. La Croce Blu di Gromo promuove un nuovo corso di primo soccorso. L'inizio è previsto martedì 17 gennaio. Qual è l'obiettivo di questo corso? L'obiettivo è quello di organizzare questo corso per reclutare nuovi volontari. Chiaramente il corso è aperto alla cittadinanza, alla popolazione, a chi ha voglia di mettersi in gioco e dare un po' del proprio tempo libero presso la nostra associazione. Il corso come dicevi bene prima inizia il 17 gennaio che è un martedì e sarà la prima serata di presentazione per quanto riguarda questo corso che durerà 42 ore e ci saranno altre 4 ore per quanto riguarda l'aspetto formativo per il trasporto sanitario. Inoltre è previsto anche la formazione per quanto riguarda l'utilizzo del defibrillatore semi-automatico. Chiaramente è un corso che alla prima presentazione si deciderà come improntarlo con i partecipanti, quindi verrà fatto la sera in settimana, assieme si decideranno le serate da fare. Chiaramente è un corso che comunque viene aperto alla popolazione per poter poi essere inserito all'interno dell'associazione per dare una mano per quanto riguarda l'attività del trasporto sanitario. È chiaro che ci sono delle ore di corso sulla parte teorica e per quanto riguarda anche la parte pratica. Al termine ci sarà una serata dove verrà fatto l'esame di fine corso. Si spera nella buona partecipazione della popolazione e all'interno di questo corso si parlerà anche di protezione civile, antincendio boschivo ed anche l'attività per quanto riguarda soccorso su piste da sci perché la nostra associazione fa anche queste attività per quanto riguarda la nostra zona. Le iscrizioni si fanno direttamente in quella serata? Allora le iscrizioni abbiamo già avuto parecchie iscrizioni telefonicamente o via mail oppure per chi non ha questa possibilità lo può presentarsi direttamente quella sera lì del 17 quindi si può iscrivere esattamente anche quella sera lì. Con questo corso c'è anche la possibilità di diventare soccorritori del 118? Allora questo è il primo step, è la prima fase di corso, una volta terminato questo ciclo dovrà decidere se continuare a fare il secondo modulo e al termine di questo secondo modulo darà la possibilità di poter chiaramente dopo il tirocinio, dopo l'esame effettuato anche dal personale di Areu potrà fare attività di soccorso in ambulanza. Chiaramente c'è tutto uno step post primo modulo. Storie di viaggi pericolosi per due giorni ad Albino. Questo è il titolo scelto dall'Associazione Diafora per la nuova edizione di Ripamondo. Si parlerà di popolazioni, agenti patogeni e politiche ambientali con ospiti di prestigio. Sono qui per raccontarvi alcune cose della mia associazione che è l'Associazione Diafora e in particolare di quello che è l'associazione organizzato in questi due giorni, cioè a partire da domani, venerdì e per tutta la giornata di sabato presso il convento della Ripa d'Albino. Il convento della Ripa è la casa dell'Associazione Diafora ed è un bellissimo convento quattrocentesco e tra gli obiettivi di Diafora c'è proprio quello di mostrare per via di fatti nelle pratiche quanto siano ancora importanti luoghi come quelli appunto del convento che offrono una specie di casa a persone che intendono confrontarsi, intendono studiare e intendono appunto dialogare. Diafora è parola che deriva dal greco, è la differenza, quindi è un'associazione che si occupa di differenza. La differenza non riguardata come un elemento di scontro, di opposizione, di divisione tra mentalità e stili di vita, ma la differenza va rivista come risorsa, quindi come possibilità di arricchimento, di incrocio che diventa anche un incontro, di ascolto, di comprensione. E differenza quindi per Diafora, ha sempre voluto dire in questi anni, provare per esempio a far dialogare, saperi di discipline diverse. Un tema che l'associazione ha indagato in questi anni attraverso il ciclo Ripamondo, in collaborazione con la cooperativa sociale La Fenice e il Comune di Albino, è quello delle migrazioni. La parola migrazione suscita in genere timore e moltissime domande. E spesso l'informazione diventa un terreno scivoloso, affrontato in maniera forse un po' troppo semplicistica. Per esempio, qualcuno potrebbe vedere nello spostamento di persone una causa di epidemie. E invece da qui è nata l'idea, grazie all'apporto del professor Martino Entrona che ancora ringrazio, di passare domanda a numerosi studiosi, quindi a filosofi, scienziati, antropologi, storici, proprio per fare maggiore chiarezza sulla complessità di questi intrecci. E se c'è un parallelismo tra il movimento degli umani e lo spostamento di agenti patogeni, sta proprio nel loro rapporto con l'ambiente, rapporto con l'ambiente che deve essere governato. Quindi il punto delicato è quello della intersezione tra l'intervento dell'uomo, che è un intervento culturale, e la natura. C'è bisogno di un'azione culturale che attraverso la tutela dell'ambiente rispetti gli equilibri naturali. Quindi in questi due giorni saranno con noi persone di altissimo profilo scientifico, il professor Introne, il professor Grignolio, il professor Allovio, la professoressa De Monticelli e il professor Leonardo Caffo. E speriamo quindi che la parola contaminazione, che purtroppo nel nostro immaginario è virata solo in una direzione negativa e di pericolo, possa essere invece ripresa anche nella sua etimologia originaria, la famosa contaminazio che veniva utilizzata nelle letterature per arricchire di contenuti ed esperienze il prodotto culturale e per favorire attraverso il rimescolamento, l'ibridazione, la nascita del nuovo. In questa direzione soprattutto andranno i momenti dedicati alla cultura culinaria con la chef Veronica Panzeri e anche il concerto finale, che sarà questa volta all'auditorium di Albino e non più al convento della Ripa, dei Tascani Music Revolution, che sono un collettivo musicale che ci faranno vedere come attraverso l'improvvisazione di diversi stili e contenuti musicali si arrivi ad una grande armonia e una grande bellezza. Vi aspettiamo e il programma è sul sito dell'associazione associazione diafora.it. Un riconoscimento prestigioso per Monsignor Carlo Mazza, bergamasco di Entratico, vescovo emerito di Fidenza. Per diversi anni direttore dell'ufficio nazionale della CEI, per la pastorale del tempo libero, sport, pellegrinaggi e santuari per cinque olimpiadi estive e due invernali è stato il cappellano della delegazione azzurra ai giochi. Recentemente è stato insignito della Stella d'Oro al merito sportivo del CONI. Lo abbiamo intervistato. Che cosa rappresenta per lei questa Stella d'Oro? Allora in termini un po' banali si direbbe un premio alla carriera. Certamente non è così. Io credo che il CONI con questo atto della Giunta e del Consiglio abbia voluto in qualche modo dare risalto a un servizio gratuito che ho avuto l'onore e anche così la possibilità di esercitare in questi ambiti sportivi di alto livello, sia italiano sia anche internazionale. Sono vent'anni dunque dello sport nazionale e internazionale, quindi è stata un'esperienza straordinaria sotto i profili sportivo, atletico-sportivo, per la conoscenza degli atleti, del mondo dello sport al di là della ribalta televisiva o comunque atletica e nel contempo una possibilità di essere vicino con molto rispetto e con molto garbo, assolutamente, e discrezione a questi grandi nostri atleti che hanno dato gloria all'Italia sostanzialmente. Dunque conoscendoli dall'interno e al di fuori dal palcoscenico, usiamo così l'espressione, uno dei campi di gara, c'è una conoscenza molto più profonda, molto più umana di queste grandi storie personali, individuali e collettive che riguarda la civiltà dello sport in Italia. Io voglio sottolineare questo aspetto perché è così, io ritengo che sia così. La mia presenza di cappellano, quindi di prete sostanzialmente, è cresciuta dentro l'esperienza perché io non sapevo nulla prima di entrarci, è stata un'esperienza direi sorprendente che mi ha dato la possibilità di andare oltre quello che è la conoscenza del tifoso o comunque del conoscitore del cultore dello sport. E dunque a diversi strati potrei dire, è un'esperienza a diversi strati e tutti concorrono a darmi un'idea, diciamo così, della valenza sportiva ma anche morale e spirituale di questi atleti e anche del mondo attorno agli atleti, cioè gli allenatori, massaggiatori, psicologi e quant'altri corrono attorno agli atleti perché è un mondo, è un universo, diciamo così. E questo è importantissimo per me ma anche per loro perché essendo una presenza istituzionalmente riconosciuta dal coni, quindi questo mi ha dato la possibilità effettiva di essere lì, non di essere un intruso o di essere uno che va a curiosare, diciamo così, o che va per ricevere chissà quali vantaggi. Io ho sempre rifiutato qualsiasi tipo di vantaggio se non quelli che avevano tutti dentro questo mondo, quindi io potevo andare sia nei campi sportivi sia dove, vivendo dentro il villaggio, quindi questa mi ha dato la possibilità degli straordinari, sia dalle cose più semplici, incontrare un atleta per strada, di parlare con lui oppure mangiare con lui, mangiare con loro, insomma in questi grandi hangar delle mense degli atleti e anche delle persone che accompagnano gli atleti. Era l'ultimo servizio, adesso i programmi di Antenna 2, questa sera alle 20.05 il programma di motori, paddock a cura di Franco Bobbiese, alle 21.45 la rubrica ascoltate il lavoro, alle 22.00 work in progress, alle 22.30 la seconda edizione del telegiornale, alle 23.05 ski magazine, rubrica di sport invernali, alle 23.45 il sasso nello stagno a mezzanotte e mezza la terza edizione del TG. L'almanacco domani è venerdì 13 gennaio, il sole sorge alle 7.54 e tramonta alle 17.04, la luna è all'ultimo quarto, sorge alle 23.36 di domani, tramonta alle 11.30 di sabato. La chiesa ricorda Sant'Ilario di Poitiers. E con questo è tutto, vi ricordo dopo il TG, il TG Sport, la rubrica classica ma non troppo e le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per l'attenzione e buona serata.